Peccato che la Fiat voglia continuare con questi atteggiamenti. Noi da sempre abbiamo detto che non c'è rivalsa nei loro confronti, noi vogliamo il nostro posto di lavoro, lo ribadiamo sempre con forza, anzi chiediamo che, siccome la legge è uguale per tutti, chiediamo che qualcuno ci dica perché non venga rispettata la sentenza emessa dal giudice della Repubblica Italiana, quindi aspettiamo ancora con forza questa nostra richiesta. Per i loro diritti, ma anche di tutti i lavoratori, torneranno nel pomeriggio ad Atessa, lo annunciano. Torneremo con il nostro segretario generale, con il segretario regionale e cercheremo di parlare con i lavoratori davanti ai cancelli, noi ci ospitiamo dentro perché così dovrebbe essere giustamente, però se questo non è parleremo fuori, non c'è problema. Io credo che in Italia urge, diciamo, che diano delle risposte concrete come uscire da questa crisi e soprattutto senza barattare i diritti acquisiti fino ad oggi.